Che campioni, Mario e Luigi, campionissimi! Che campioni, Mario e Luigi, campionissimi! Benvenuti nell'arena del Regno dei Funghi! Si scontrano... Bowser e Lino! Eccolo che sta arrivando, Bowser! E i suoi Donkey Kong e brutti ceffi. Mentre Mario è dalla mia parte con la pitch! Let's go! Mario di calcio! Perché? Non me lo chiedo, ma sono felice! Non vedo l'ora, ma ha un'altra pitch lui! C'è una pitch malvagia! Chi è quella? Non ci credo, potremmo usare un sacco di poteri per fare gol! Guarda il Toad con il tiro a banana! Dai, 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 dai! Che qua si gioca tutto! Porca vacca! Ma immaginate giocarlo online contro un altro giocatore! Deve essere fighissimo! Ci facciamo la carriera! La modalità carriera! Ma FIFA chi? Ma FIFA cosa? Ma spostati, nasconditi! Ok! Ecco, il sium di Luigi arriva! Colpo goppo! Di Marione! Rovesciato incredibile! Rovesciato incredibile di Mario! No! Boom! Bellissimo ragazzi! Ma che cavolo di gioco è questo? Mario Strikers Battle League World Football! Faccio un secondo un po' di allenamento ragazzi! Faccio due secondi un po' di allenamento che non so giocare! Magari ve lo riassumo ma praticamente c'è il robot che mi spiega le lezioni! Come si muove la levetta! Eh, cagatine varie! Woo! Guarda che bravo! Guarda che bravo! Guarda che bravo! Goal! Goal! Vabbè! Ho imparato abbastanza per, diciamo, la prima partita. La coppa! Club Striker! Equipaggiamento! Posso cambiare le tute! E potenziarlo! E va bene! Andiamo su coppe adesso però! Ci facciamo una coppa a un giocatore! Si può giocare anche assieme! Faccio la coppa a cannone! Scopri se riesci a sconfiggere squadre specializzate nel tiro! Vai! Allora facciamo la mia squadra! Manuale, auto! Facciamo auto! Allora, come formiamo la squadra? Mario! Mario ci deve essere! Mario è il Ronaldo di questo gioco! Ora prendiamo il nostro Messi! Come seconda personaggio voglio uno grosso! Anche se sei il mio nemico, Bowser, prenderò anche te che hai molta forza! Però io prenderei uno Yoshi! Yoshi è Mario! Cioè, non c'è Mario senza Yoshi! E non c'è Yoshi senza Mario! Quindi prendiamo Yoshi che ha un buon tiro, un buon passaggio! Un altro forza... VARIO! Oppure Waluigi! Allora, vorrei prendere Luigi, ma oggi voglio Waluigi! Due buoni e due cattivi, dai! Ci sta nella squadra! Con equipaggiamento, senza equipaggiamento... Non ho capito cosa intendono, ma vediamo! Il colore della squadra... Dai, Rossi mi piaceva! Rossi è bello! E lo facciamo sulla collina fungosa per iniziare! L'Atletico Razzi contro Allie United! Ok, ok, ok! Vediamo cosa riesce a fare il vostro Gaby la prima partita! Eccoci qua nel campo da calcio! Squadra dei cattivi contro squadra dei buoni! Ovviamente io sono dei buoni! Eh, 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 eh! Non so se ci sono dei potenziamenti che dovrò prendere, ma la partita si sta incendiando! Gli spettatori, il pubblico vuole vedere Gaby, Gaby... Cioè, Mario! Mario! Tutti gli Yoshi e la sua famiglia infinita è venuto a vedere il... Mario che esce dal portone! Guarda che squadra! Guarda che squadra! Oh no, c'è Luigi! Fratello! Ti sei messo contro di me? Vieni, allora adesso ti mostro io! Mamma mia, si sta creando una rabbia tra fratelli! Questa è una faida! Oh, iniziano bene! Però subito ho parata nel mio Bungo Bungo! Waluigi! Waluigi si muove rapido! Eh, volevi prendermi! Waluigi! Waluigi ha la palla! Waluigi non potete prendere! Ora corro! Passiamo! Che mi sto stancando! Aia! Questo è un fallo! Arbitro! Avete visto che roba? Dai pazzi! Passatemi sta palla che... Ecco! Ok, ora andiamo! Passaggio lungo! Bravo! Mario passaggio! E qualcosa sta succedendo! Devo ancora imparare! Questi qua mi stanno tirando! Ok, devo stare attento! Allora... Passata, passata, perfetta! Abbiamo un coso e provo a tirarla! Hanno ripreso la palla! Niente, questa partita si sta tutta giocando a centrocampo praticamente! Ah, fuori! Eh, ti ho tirato un pugno in muso! Ok, passaggio ora! Veloce! È tempo di tirare! Vai! Vai! Ce la facciamo tirare sotto palla, ragazzi! Niente, non la tirano! Non la tirano! Siamo tutti potenziati! Abbiamo la rabbia nelle vene! Ancora non ce la faccio! C'è uno Yoshi morto intanto! Allora... Ecco, buttala fuori Luigi alle balle! E ora tirala! Tirala Mario! Tirala ora! Sì! Gli ho praticamente sfondato il portiere a botte! E corri! Mario vai a vedere Capriola! Guarda come balla! Guarda come balla! Il nostro baffettone! Non c'ha il fisico per niente dal calciatore! Ma in qualche modo ce la fa! Funghi ti allucinogeni tutta la vita! Danno questi effetti! Ok! Non mi serve vedere 800 replay! Riguarderemo dopo! Oh! Vogliono subito provarci! Waluigi! Waluigi! Passaggio lungo per Mario! Mario passa Bowser! Bowser ha la palla! Si posiziona a centro campo! Ah! Questo è un fallaccio! Dannati Yoshi inutili! Allora... Aspetta! Ecco! Alla rete! L'ho bruciato questo Yoshi! Ahia! Mi hanno bruciato anche a me! Tutti che mi hanno... Che tiro lungo infame! Tiro alato di Luigi! Guardalo! Guarda come si loda che si sbroda! E fa il balletto molto Pepsi di Luigi! Egne! Ma... Guarda qua! Guarda! Andiamo a vedere il replay! Dai te lo concedo Luigi questo replay! Che tiro lungo! Ma questo portiere mandatelo a casa! Mario! È tua Mario! Non ho mai giocato a FIFA tanto! Quindi non ho la bravura! Ma imparerò in fretta! No! No 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 Luigi! Mamma mia Luigi! È un pazzo quell'uomo! Qualcuno lo fermi! Dammi questo! Ah! Ah ah ah! Sì! Mamma mia vai Luigi! Vai Luigi vai! Oh! Oh! Che fallacci infami! Oh cavolo! Bella 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 passaggio rapido! Passaggio alto! Qua qua ci sto! Qua ci sto! Oh 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 oh! Cosa gli ho fatto? Che gioco di pallone sotto la rete! Oh! Cosa succede Luigi? Luigi tuo fratello ti ha distrutto! Ti ha fatto il cubo a stelle strisce! Guarda che passaggio epico! E torna dietro Mario e fa un tiro sbilenco che non si aspettava nessuno ed entra proprio lì nei funghi! Entra! Continuiamo così che stiamo andando bene! Ora faccio falli a manetta! Non importa! Uh! Ci provano già inizio gioco! Ma il mio portiere è il più bravo! L'ho pagato bene! Eh! Cosa succede Luigi? Cosa succede? Ok! Tiro grosso! Uh! Oh cavolo avevo provato a caricare il tiro! Mamma mia! Mamma mia! Ok! 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 Stai imparando! Stai imparando pian pianino! Ok! Ok! Occhio! Oh! Che sta succedendo? Abbiamo... Eh! È scaduto il tempo! No! Hanno pareggiato all'ultimo secondo perché ho perso il pallone! Qua si va ai rigori! Ma idiota! Ma dai! È perché non mi piglio con i tasti! Ma che figlio di brava donna! Eh sì! Golden goal! Chi fa gol ora vince! Ok! No! Mi spacco! Sì! Ma dai! Ma che gol era? Ma andate a cagare! Ma che gol era! Questa partita è truccata! Arbido venduto! Arbitro venduto! Sì! Da lì! Ma veramente! Mandate a casa sto portiere! Mandatelo a casa! Ah! Sì! Vabbè! Era pilotata! Era pilotata! E niente! Si parte in svantaggio! Si parte! Siamo in loser bracket! Va bene! Non importa! Anche se sono in loser bracket! Adesso spacco il sedere! Passaggi corti! Vai Mario! Cavolo! Sì! Sì! La riprende! Il nostro Mario Ronaldo! Questa si vince! Questa si porta a casa! Cos'è sto tiro? Cos'è sto tiro? Cos'è sto tiro? Cosa fa sta qua? Cos'è che tiro ha fatto questa? Cos'è? Oh no! Il tiro massimo! Si può parare? Oh! Oh! Tira! No! Entrata! Entrata! I per tiro che fa due gol in uno! Ma cos'è sta melma? Cos'è due gol in uno? Ma come si fa? Guarda che non riuscivo a pararla! E mi ha ghiacciato! Ma che cavolo è? Fatela entrare sta palla! Ora di nuovo il golden goal di melma! Sì però un gol che vale due no! Sì! Vai a cagare! Ciao! Che gol! Che gol! Sto diventando assurdo! Sto divertendo! Boh! 3-1! Ora sto tornando! Guarda Bowser! Guarda Bowser! Guarda Bowser! Quando ha fatto il gol! Che bestiale! È uno schiacciasassi quell'uomo! Grosso come il metallo! Colpo di coda! È il colpo di coda di Bowser! No! No! Fanno quei gol di melma che valgono due! Fanno quei gol di melma che valgono due! Sì! L'ho parata! L'ho parata! Ok! Oh! Guarda Mario! Sì! Sì! Cosa stava succedendo lì? Comunque l'ho portata a casa! Oh! Già vedete! Già vedete! Sto facendo progressi e diventeremo sempre più forti! Salta Mario! Salta! Sono finiti i giorni da idraulico! Ora sei un calciatore milionario! Altro che la Peach! La Belen Rodriguez si becca! Ok! Quindi questa è andata! Andiamo a portarci a casa la coppa finale! Guarda! 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 Sti turnini! Con i suoi fartellini! Ma quanti sono? Ehi! Ma quanti ne ha? Vai Mario! Quanto devo giocarmelo! Mario! Sì! L'abbiamo devastata quella porta! L'abbiamo abbagliata! L'abbiamo attanagliata! E non l'abbiamo presa! E ce lo siamo portati a casa! Viva i Mari! Mari e Monti abbiamo fatto! Guarda! Guarda! Guardate! Guardate il gioco di palla su questa porta! Cioè! Incredibile! Sì! Vabbè! Non puoi farmi un gol così però ad inizio gioco! Anche lei! Razza di rincretiniti! Oh! Che cosa ho fatto? Avete visto che cavolo ho fatto lì? Oh! Anche io ti faccio il gol ad inizio game! Ritirati va! Oh! No! No 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 no! Era il tiro massimo questo! Questo era il tiro massimo! L'hai infuocata! Ora tocca a me fare il tiro da pro! Vai Bowser! Facci sognare! Anche se non l'ho fatto bene! Avrei dovuto farlo di più forte! Dai qualcuno! Fatelo entrare! Fallo entrare! Fallo entrare! Dai! Ma hai riuscito a pararla! Sto cocomero! Questa era vinta! Se mi faceva... Ok! Ok! Dai! Mamma mia! Oh cavolo! Eh! Golden goal! Golden goal! Siamo golden goal! Chi segna questo segna tutto! Ok! Passala! Vai! Passala! Dai! Ragazzi! No! Ragazzi! Vai portiere! Ritirala! Ritirala in fondo! Ma vaffan cacca! Questo gioco mi fa tirare un joypad sul muro! Mi fa tirare! Mario! Dai! Sono tornato! Sto imparando! Sto imparando! La rovesciata di Mario! Sì! Mi sa che me la para questa! Vagli dentro! Fagli vedere! Questi me le parano tutte! Vai! 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 Ora anche Waluigi! Ora ho anche Waluigi! Fagli vedere Waluigi! Guarda che boss! Waluigi è il più forte! Waluigi la fa entrare! Waluigi la fa entrare! Questa sì! Questa sì! Questa sì! Ho fatto un gol da quattro alla fine! Waluigi! Sì! Waluigi! Si accende! Mangiati quel pallone! Passaggio rapido! Passaggio rapido! Mi hanno rubato già la palla! Sono deficiente! Gliela rubo anch'io! Ok! Passaggio rapido a Bowser! Ora è il momento di tirare! Ma la para! Il colonnello! Con un grave ritardo! Ecco qua! Possiamo! Passiamo! Passiamo! Passaggio lungo! Vai! Bowser! E niente! Me l'hanno fermata! Questa è un team forte! Ok! No! Ok! Ok! Passaggio alto! Mamma mia! Ci riprova! All'angolo! Oh! Ok! Mario! Mario! Passaggio lungo! Oh! Ok! Mamma mia! Cosa stiamo facendo su quella porta? Uh! Vai Yoshi! Bowser! 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 Oh! Che cavolo! Ora ho il campo libero! No! Non sono riuscito a fare il massimo della potenza! Niente! Torna a Waluigi! Ma senza il massimo della potenza non entra niente! Posso premere quanto voglio! Devo avere un fattore fortuna! Ah! Sì! Che gol di! Che gol di Yoshi! Avete venuto un passaggio lungo al lato! E Yoshi danza sul suo pallone! È velocissimo Yoshi! È l'underrated! È l'underdog di questa partita! Nessuno! Ma in realtà è il true MVP! Dai è Yoshi! Con la lingua lui! Non so se sia un fallo calciare con la lingua ma guardate che ci vogliono anni di allenamento per calciarla con la lingua! Sì però dai mi deludete così! Ero tutto allegro! Mi fate un gol ad inizio game! Lo sto scimmione di cacca! Sì! 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 E alla fine! Pause! Pessante! Passante! Passante! Non si vedevano ai tempi del Real Gabibbo queste robe! Il Real Gabibbo vince! Atletico Razzi! Potenti come Razzi! Troppo bravi! È stata dura! Adesso finalmente siamo alle finali! Dai! L'ultima partita! Contro chi siamo? Ancora contro di loro! Hanno ancora una vittoria! E se li battiamo qui ce la portiamo a casa la coppa del nonno! It's a me! Ok! Sono ancora a stiscarsi! Mario! Corri verso quel pallone! Non cambia! Lo arranca! Se lo tiene il possesso di palla è qui! Ma Luigi prova un tiro in porta! Muore sul colpo di infarto prima di poterlo fare! Mannaggia Yoshi si mette avanti al pallone e si prende una pallonata! Dai Yoshi torna! Ok! Vai 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 Bowser! Vai Bowser! Più agilità! Vai Mario! Fai il capriola! No! Una linguata! Ma Luigi fai i tuoi falli! Fai i tuoi falli! Fai i tuoi falli! Mamma mia! Se stiamo prendendo pallonate a gonfie vele! Ok! Ce l'ha Mario! Ce l'ha Mario! Ce l'ha Mario! È da solo! È da solo! È avanti! Ah! E mi fanno un fallo! Anche io allora! Ah! Vai Mario! Vai ma! Oh che cavolo! Oh che cavolo! Mamma mia! Ragazzi la tensione è palpabile! Che gol di m***a mi avete fatto! Siamo 1-0 già! Però adesso questa si fa gol! Sììììì! Ok Aggersimi uno ad uno Hanno la classe dei fuori classi Mario e Luigi È potente Fa i falli Si spacca un Toad Ti spacco di botte Questo Toad Non c'è storia Guarda con che agilità E ora Oh questa mia entrata Questa mia entrata Questa Luigi la fa Questa Luigi la fa Facci sognare Faglia vedere Così che tutti la possano vedere Spacca quella porta Si non c'era ragazzi Tre punti Distrutto You got Luigi Tanto mancano due secondi Potete esplodere Tengo il pallone Si ho vinto Bisogna giocare da griffer E ci siamo portati A casa la coppa Marioni Svarioni Troppo bravi Un Mario Di calcio Li ho messi In un Mario Di guai Proprio Ci sono stati Dei by goal Abbiamo tenuto Botta In questa partita Anche loro Ne hanno fatti alcuni Di assurdi Tipo questo Mannaggia Mi è arrivato Quasi in muso Ma è stato Veramente Stupendo Niente Allora io non sono Un gran giocatore Di calcio Non mi piace molto Però Mario Mi ha fatto sognare E ogni tanto Comunque lo seguo Conosco i vari giocatori Un po' E il problema È che non ho mai Giocato tanto FIFA Da molto Molto tempo Quindi Non ho Tipo i riflessi Uno bravo Su FIFA Secondo me Sto gioco Easy proprio Però dai Magari un giorno Andrò anche su FIFA Perché comunque È divertente Bene Andiamo a vedere Un po' Cosa succede adesso Perché abbiamo vinto La coppa Sono arrivato alla fine Ho la coppa Cannone Abbiamo la coppa Abbiamo la coppa Fammi vedere Che succede Dammela Oh We got The coppa Bravi noi Bene E 400 monete Che possiamo spendere Per nuovi vestiti E nuovi abbigliamenti Ma per questo episodio Era tutto Io vi ringrazio Per la visione E a nuove fantastiche Partite Di Mario Football Ciao ragazzi